Avvio di stagione a dir poco complicato per Filippo Bianchi nel campionato italiano velocità a moto 3. Prima al Mugello, a metà aprile, pochi giorni fa a Misano Adriatico, il sedicenne talentuoso Centauro Lucchese non ha potuto esprimersi secondo quelle che sono le sue indubbie qualità. Dopo il doppio zero al Mugello, anche sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, Bianchi, in sella alla onda del team Gresini, è stato penalizzato da una rovinosa caduta nelle prove cronometrate di venerdì, che inevitabilmente ne hanno condizionato tutto il weekend. Sabato, in gara 1, non è riuscita a schierarsi in griglia di partenza, doveppur aveva il sesto tempo. Domenica, in gara 2, ha voluto assolutamente gareggiare, con caparbietà ma il forte dolore alla spalla lo ha penalizzato, costringendola ad accontentarsi di un piazzamento modesto, anche se ha concluso la corsa. Archiviata questa dolorosa, in tutti i sensi, doppia parentesi, adesso l'obiettivo è quello di rimettersi a posto fisicamente e di cercare un riscatto totale ai primi di luglio, il 3 e il 4, sul prestigioso circuito Enzo Ferrari di Imola. La strada per recuperare almeno parte del terreno perduto è ancora lunga e di sicuro Filippo ha le qualità e il carattere per farlo e per dimostrare che il suo inserimento nel progetto Talenti Azzurri 2021 è assolutamente meritato e legittimo.